portare le aziende per aiutarle a crescere o quantomeno ad affrontare i momenti difficili anche questa è una delle missioni che da tempo cerco di portare avanti e per la quale oggi ho qui con me un ospite molto interessante Nico Allegretti di Eurobarter benvenuto Nico ciao Raffaello grazie per questo spazio che vuoi dedicarci così spieghiamo esattamente cosa facciamo e di che cosa viviamo sì perché nel periodo soprattutto nel periodo del covid si sono moltiplicate le video chat le call conference le occasioni per conoscere nuove realtà nuove persone e tanti servizi servizi utili soprattutto per le aziende questo è quello che cerco sempre di fare e quindi ho colto l'occasione di approfondire un mondo legato anche alle community come quello di Eurobarter una community che cerca di supportare le aziende per sviluppare il proprio business ma ecco Nico spiegaci meglio di che cosa si tratta per favore allora Eurobarter ovviamente è una comunità di aziende italiane e anche estere che operano in tutti i settori merceologici è frutto di un'esperienza ormai più che trentennale soprattutto maturata in settori della moda dello spettacolo e televisione perché io personalmente ho collaborato più di 30 anni in Fininvest e da lì abbiamo incominciato a fare un business che oggi diventa innovativo ma che è già adattato come formula applicativa che è il cambio merci cioè vendere la pubblicità in cambio merci tra l'altro Eurobarter ormai è anche il risultato finale di un collaudo biennale fatto sul territorio italiano e non solo perché abbiamo voluto capire fino in fondo e valutare fino in fondo come meglio poi formulare le proposte dei nostri servizi che abbiamo preparato nella comunità che abbiamo fondato che ha uno slogan molto simpatico che ti voglio sottolineare che è collaborazione no competizione bellissimo slogan e nella vita pratica nelle attività che svolgete come si estrinseca quali servizi andate ad erogare come aiutate le aziende facendo che cosa abbiamo scelto quattro servizi molto chiari che all'interno della comunità le aziende una volta che si associano possono utilizzare la prima è il servizio che noi abbiamo definito formula export rivolto a tutte quelle aziende che sono interessate ad esportare all'estero i loro prodotti o i loro servizi abbiamo dei partner esteri come sul sito si potrà vedere già collaudati con cui abbiamo rapporti da oltre dieci anni servizio formula turismo perché ci rivolgiamo tutte quelle strutture italiane che ovviamente hanno bisogno e vogliono avere turisti esteri in Italia offrendo i loro servizi made in Italy come abbiamo chiamati noi servizio formula stock un servizio molto interessante molto importante che ti aiuta a monetizzare tutte le esigenze del magazzino il reso l'invenduto è purtroppo da due o tre anni a questa parte anche molto impagato e poi il nostro servizio leader come dicevo prima infine investa viene sempre lavorato vendendo la pubblicità in cambio merci oggi l'abbiamo tramutato in una formula spalmata a tutte le imprese a tutte le aziende che ne vogliono utilizzare questo sistema cioè cos'è esattamente fare scambi commerciali all'interno della community in compensazione multilaterale con tutte le altre aziende della community senza però che a questo possa seguire pagamento in denaro per cui in altre parole applichiamo la formula comprare pagando vendendo quante e quali tipologie di aziende avete all'interno della community e che cosa bisogna fare per poter entrare a farne parte allora premetto prima di tutto che non ci sono costi per cui non abbiamo creato le solite situazioni dammi che ti darò oppure per entrare o per utilizzare o per giocare con noi paga una fila ingresso paga un abbonamento annuale abbiamo tolto tutto questo viviamo solo di una commissione che andiamo ad applicare su tutto quello che riusciamo a far fare all'azienda in sintesi creiamo un rapporto di collaborazione con tutti i nostri associati tutte le nostre aziende associate per cui quando loro vendono comprano giustamente con nostro aiuto e all'interno del comune di conto dell'assistenza e tutti i servizi che dopo andiamo a vedere che offriamo creiamo soltanto un compenso chiamato commissione erogato solo sul totale imponibile del venduto dall'acquistato effettivamente concluso per cui nessun costo iniziale assolutamente né tanto meno un abbonamento annuale da rinnovare chiediamo il 5 per cento di commissione sul totale imponibile sul servizio erogato di stock oppure di barter o compensazione multilaterale come abbiamo visto prima oppure del 10 per cento sul totale effettivamente concluso e venduto sull'utilizzo del servizio export oppure turismo e poi due aliquote molto precise molto chiare senza far confusione il 5 per cento per utilizzare il sistema e il servizio barter e stock il 10 per cento per utilizzare il servizio e sistema export o turismo come può fare quindi un'azienda per entrare in questo circuito e quali sono anche le novità per questo 2022 per entrare in questo circuito la cosa è molto semplice ci interpello o ci mandano un'email soltanto per chiedere il contatto e poi interveniamo noi per concludere l'iscrizione che ripeto è completamente gratuito io volevo elencare qualche servizio interessante che noi diamo mi ha creato un pacchetto che possono utilizzare tutte le nostre aziende associate con i loro vantaggi chiaramente poi tutto questo pacchetto l'azienda utilizza quello che di volta in volta mano a mano può avere bisogno o nell'occasione chiederci anche un po di collaborazione perché noi aiutiamo e diventiamo partner della tutte le aziende che si associano al sistema della community allora abbiamo detto alleggerire e modificare tutte le esistenze di magazzino questo è un servizio che da tre o quattro anni sta parte è diventato molto molto interessante perché molti hanno invenduto fine serie eccedenza di produzione che purtroppo come ho detto prima anche tanto impagato hanno una vetrina a tutti mettiamo a disposizione una vetrina aziendale dedicata e personalizzata dove c'è l'indirizzo le fotografie dei prodotti e le aziende tra di loro si possono telefonare conoscere e prendere accordi avere un trader o un operatore commerciale o un operatore dedicato a ogni azienda che le segue mano a mano che hanno le loro esigenze sia per gli acquisti che per le vendite perché un trader assegnato a ogni azienda una volta che uno diventa membro della community entrare a far parte in un sistema dove ci sono altre aziende vuol semplicemente anche dire conoscere nuovi potenziali clienti e anche perché no nuovi potenziali fornitori possono esportare e vendere i prodotti chi è interessato all'estero tramite tutti i nostri partner associati e possono anche ogni tanto importare perché no qualche prodotto dall'estero in Italia furbo o interessante per il mercato italiano non hanno nessun costo di nessun tipo di iscrizione e noi promuoviamo per loro tutte le loro offerte tutte le loro proposte di vendita che vogliono mettere nel sistema per cui un'azienda entra può mettere un listino di prodotti che intende commercializzare può essere aiutata per commercializzare questi prodotti all'interno del sistema e chiaramente anche per quanto riguarda il reparto turistico vendere tutti i pacchetti che andiamo a formulare per tutte le zone italiane con tutte le nostre aziende associate, ristoranti, bed and breakfast, agriturismi o quant'altro, zone di arte o di cultura dove possiamo formulare dei pacchetti in vendita sia per l'Italia e sia all'estero per emetto che abbiamo un turismo prettamente aziendale le novità io penso che questa grave crisi economica e finanziaria che ci sta colpendo ovviamente possa essere risolta solo attraverso una profonda presa di coscienza e soprattutto incentivare motivare per una ricerca di nuovi modelli di sviluppo che siano più compatibili sia con l'ambiente che con la dignità della persona all'interno della nostra comunità di fatti proprio a questo proposito abbiamo preparato un'academy l'academy che cosa fa prepara e forma tutte le nostre risorse ovviamente inserendo l'uso costante di strumenti tecnologici tra i più avanzati vedi la realtà aumentata e quant'altro e soprattutto andiamo a creare una specializzazione settoriale in tutte le nostre attività di trading e con questi quattro servizi che noi arriviamo alle aziende associate hanno alle spalle dei trader che sono preparati nella nostra academy di cui rilasciamo ovviamente anche attestato di frequenza patrocinato dall'università di cui io faccio parte perché sono tra l'altro inserito in un contesto da ex docenti di cattedra di università e partecipo ai master come docente soprattutto con la formula del barter o compensazione multilaterale italiana che sta adestando ultimamente molto molto interesse come nuovo strumento finanziario e come nuovo strumento di marketing cerchiamo e sviluppiamo quotidianamente con i nostri clienti i rapporti commerciali tra tutte le aziende per cui aiutiamo ci inventiamo progettiamo insieme strategie sia italiane che estere questo è molto importante abbiamo anche delle simpatiche aziende associate estere con cui dialoghiamo spesso e volentieri e ci inventiamo delle cose molto interessanti ovviamente non scartiamo di inserire quotidianamente tutte le tecnologiche più avanzate e appropiate per raggiungere i migliori risultati in questo mondo mercato di trading che ci circonda c'è solo una cosa sicura in questo mondo mercato quanto costa oggi avere un'azienda al giorno e come fare a inventarsi la copertura con le entrate per i costi di gestione la maggior parte dei nostri imprenditori sono creativi e si sono abituati a combattere ogni tipo di battaglia è importante cercare di fornire delle alternative degli strumenti in più alle aziende anche proprio per per sopravvivere per cercare di superare questo momento eurobarter può essere una buona soluzione una valida opportunità che sono contento di aver potuto illustrare grazie alla tua presenza quest'oggi e mi auguro che possa essere un valido spunto di riflessione anche per tutti quelli che poi avranno modo di vedere questo video l'appuntamento dunque è direttamente sui vostri canali o anche tramite me sarò ben lieto di girare la stessa scheda utile per aderire a eurobarter per poi mettersi in contatto con te e approfondire ogni aspetto legato ad una possibile collaborazione io ti ringrazio a farlo dell'opportunità e credo che l'insieme fa la forza una community nasce per dare una mano e devono capire tutti e noi per primi l'abbiamo già capito da tanti anni che bisogna aiutarsi perché ogni azienda ha bisogno di un'altra insieme si può fare qualcosa di concreto e di buono isolati si rischia di essere proprio tagliati fuori e anche moralmente tristemente per cui stare insieme vuol dire molto di più che semplicemente vendere o comprare vuol dire proprio conoscere far amicizia dialogare esatto esatto proprio e questa è il feeling è la motivazione per cui esiste la comunità eurobarter ti ringrazio tanto di questo spazio che hai voluto dedicarci insieme un mondo migliore è possibile